I primi appuntamenti sono fissati per il 16 dicembre. Parte così in tutta Italia, a ridosso del Natale 2021, anche la campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni, finora priva di difesa dall'attacco del Covid-19. Lombardia, Piemonte e Toscana, le regioni che hanno già aperto le iscrizioni, il Lazio le aprirà oggi alle 16, le altre, secondo un proprio calendario, reso noto ai propri cittadini. Le dosi saranno due, a distanza di tre settimane l'una dall'altra in bambini sani, 28 giorni invece per i fragili. La dose sarà ridotta rispetto a quella degli adulti con vaccino esclusivamente Pfizer. Per chiarire ogni dubbio, l'Istituto Superiore di Sanità offre su internet un vademecum per le famiglie, mentre da Sudafrica arriva la notizia di alti numeri di bambini colpiti dalla variante Omicron, un motivo in più per scegliere un vaccino efficace e sicuro. Mi auguro che ci sia una forte adesione dei genitori alla vaccinazione anti-Covid, dei più piccoli vaccinazione che è stata dichiarata efficace e sicura dalle autorità di controllo statunitensi, europee e italiane e che ha visto già vaccinati nel mondo diversi milioni di bambini senza che si siano osservati effetti importanti e gravi a seguito della vaccinazione. Vaccinare i più piccoli significa metterli in sicurezza e significa assicurare loro una vita normale.